beh siamo in partenza Nicola per la fine Nicola vi deve dire come è andata questa crociera è stata bella puramente un po' stressante però io sono un po' incazzato come è andata signora la crociera? stavamo ad aspettare tre ma noi stavamo già giù ha voglia di aspettare il culo cammini ha da dire qualcosa? no non ho da dire niente io mi sono scocciato due giorni fa quindi già da due giorni fa perché ormai la nave la conoscevo abbiamo sbagliato l'uscita di fuori anziché andare a cena della mattina andavamo solo il pomeriggio